Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo nuovamente su The Survivalists Siamo in modalità cooperativa, come vi avevo permesso l'avrei riportato in compagnia Siamo in compagnia di Gabri Ciao Fedele compagno di mille avventure in passato E' tornato E niente, adesso abbiamo un sacco di scimmie Ho continuato la partita che è più o meno quello che avevate visto nel primo gameplay Abbiamo un bel po' di scimmie Tra l'altro mi sa che gli ho portato via lo strumento No, ok Come potete vedere io adesso metto gli oggetti e la scimmia va e lavora Si alterna un po' tra il lavoro che do io e il lavoro che danno anche gli altri che giocano con voi Infatti ha smesso di cucinare ed è tornato a martellare per fare un asse di legno L'obiettivo di questo Come è giusto che sia Ripresentiamo che sono Hillary Gaston a cui tu sei particolarmente affezionato Sì, è la mia prima scimmia, non si scorda mai Joan Infatti siamo andati ad affrontare una... come si chiamavano? Un dungeon, insomma come si chiamava E mi ricordo ancora che tu hai detto No, è morto Gaston Poi in realtà le scimmie non muoiono Quindi rimangono stordite Ho craftato un po' di roba Infatti qua potete vedere la mazza di metallo E poi la spada Ma qua in alto c'è una cosa più interessante Perché Gabri sta facendo la casa, la base Insomma, non so se è la sua casa o la base per tutti Ah, è una base 5x5 e poi si vedrà Ah, ok Qua intanto vedete il crafting che ho portato avanti Con le gemme raffinate, la gemma del labirinto Che mi fa pensare perché comunque ci sono dei labirinti inaccessibili Quindi bisognerà craftare qualche oggetto E qua probabilmente, con ogni probabilità Ci sarà la gemma del potere Che ci consentirà di craftare il teletrasportatore Quindi non mi sembra ampissimo come crafting Se calcoliamo che qua ci sono i progetti Quindi le workbench In cui abbiamo il fuoco Che ci apre un altro livello Diciamo di un altro albero di crafting Il banco di creazione uno La fucina un altro E poi abbiamo anche la pentola da cucina Che in realtà non abbiamo mai fatto E quindi potremmo magari pensare di fare adesso Prima di andare a esplorare il mondo Intanto io mangio un po' di queste ali di pipistello Allora Allora non E poi vi faccio vedere anche la difesa della base Allora intanto Vediamo un attimo Facciamo questo Facciamo Lo mettiamo qui Ok E vediamo che cosa serve Vediamo se riusciamo a farlo subito Ok Tu sai fare la pentola? La pentola Adesso Ma o si fa lì o si fa qui Adesso te lo dico Perché serviverebbero dei sassi No Qua no Secondo me la si fa lì perché ci vorrà il metallo Ok Ok quindi Vabbè qua c'è il vetro Probabilmente facendo chiodi d'oro No? Mi sembra un po' Il telaio di metallo forse Eh può essere Tu hai fatto l'attrezzo muro robusto e non ti dà il Vero? No Immagino di no Perché qua si sviluppa verso le armi Quindi niente Mi sa che dobbiamo rinunciare Dobbiamo andare sulla nuova isola E cercare di fare un po' di metallo Minare un po' Insomma andare di là e fare qualche lavoro di questo tipo Allora il cibo lo teniamo in questa cassa Abbiamo detto Metto dentro anche le foglie Devo mangiare Sì 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 Sono due alette fritte ci sono No ma te le do Anche perché non è che posso dire non le ho Poi in video vedono che le ho e dicono Eh però insomma E poi dammi poi le altre Quelle che non mangi Allora Trovate anche la bandiera pirata Allora niente Ma il metallo ce lo siamo già bevuto tutto Ah no eccolo qui Allora dobbiamo fare Vediamo Proviamo a vedere se riusciamo a sbloccare quella cosa lì Allora facciamo Il telario Due chiodo Un chiodo E due di quello Ok allora Due di questo Due di questo facciamo già fuori tutto Chiodi non ne abbiamo Niente Non abbiamo abbastanza metallo Dobbiamo andare nell'isola Dobbiamo andare sull'isola Sì La sabbia dire che ne abbiamo finché ne vogliamo Però la metto via lo stesso Sì ma la sabbia ne abbiamo tanto C'è una scimmia che non sta facendo Perché una ti sta seguendo Sì Ma vuoi portarle fuori? No ho bisogno di una Ah perché queste sono sulla Sono sulla zattera Ok Voglio fare una ricetta Voglio fare il cosciotto Vediamo se una scimmia si inizia Si dà da fare Ah hai poggiato la bottiglia sul tavolo Eh sì Era qui che galleggiava prima Eh Ok grazie Allora Tu sei così ti chiamo per nome Hillary Fai un altro cosciotto Grazie Poi andiamo L'isola l'abbiamo già esplorata Ed è qua a sud Eccola lì Io ho trovato un leone lì Vuoi un'arma o ce l'hai? No c'ho la scimitarra E ho quasi finito Ah l'hai fatta anche tu Allora Ok ok Sì sì Mangio questo Mangio questo Qualcuno mi ha fregato il cosciotto No ok Vai vai Fai 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 E di cosa Sì in tutti i sensi Insomma Sì sono pieno di vita Andiamo ragazzi No qua poi Sì è bellino perché Puoi fare il pavimento Questo è legno vero Puoi farlo di metallo Mi pare No di pietra forse Di metallo Pietra sì Adesso sono una pietra E poi dentro gli metti l'aredo Per quello che serve Perché alla fine non credo Avrà un'importanza cruciale Salvo che Qualora Gli indigeni Ci attaccassero Cioè i goblin Qua ci sono delle trappole Quindi sono degli spuntoni Nascosti dalle foglie Quindi si avvicinano Che prendono danno Ci hanno già attaccato una volta Speriamo non ci attacchino Mentre siamo via A parte che non mi pare Facessero danno le strutture Quindi Solo Eh non so perché L'abbiamo fermati Prima che riuscissero a fare qualcosa Però Andiamo allora O dormiamo prima Allora Se andiamo in giro adesso Combattiamo sicuramente di più Niente allora Facciamo una dormita Perché Allora Ci portiamo Ci crefiamo una cassa E la diamo a una scimmia Non sarebbe male Come idea da provare Salva e dormi Ok dai dai Proviamo Sì ecco qui L'unica cosa da fare Se si vuole dormire È che devono dormire Tutti i giocatori Se uno vuole salvare Ah sì Dobbiamo essere tutti e due A letto Allora La cassa La fai Fai tu Cioè io Eh Se ce la fai Vai sì Adesso aspettate Mi ricordo dove si fa Qui nel codo del legno No Nei progetti Allora Legname e corde No no Si fa nei progetti Quattro di legno E due corde Il legname è qua Ma la faccio io? Sì sì Vai qua Allora Due corde Mannaggia Non ho Non ho spazio Allora Legname E corde Ben detto Quindi Corde Ne abbiamo Tu hai corde? Te la faccio No 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 Non c'è problema Faccio l'erba qua E qua qua Va beh Una Due No no Ma non abbondi Non c'è problema No no Va bene va bene Non servono Cinque Basta Eh ma servono a me Devo Ah ok Allora te le fregate Va bene Forzie Forziere Va beh Si potrà fare Così Provo ad assegnarlo Alla scimmia Vediamo Scimmia Ok Molla Il lavoro edilizio Per la costruzione Ma no Eh Vabbè A disposizione Il grande Zofia Nuova questa Ma quante ne abbiamo Di scimmie? Giusto per Non lo so Quattro Ok Allora Spazio Trasporta Qual è la scimmia Che si presta meglio? Eh L'arcere No Cres Gaston Gaston Va bene Ti concedo Di dare Gaston Eh Gaston Veniscià Però Allora Insegna Ti do la casse No Ma Sta andando via Fugge Gaston Insegna Ah non gli posso dare La banana Vabbè Ascolta Passa Ok Gaston Adesso Nessuna scimmia È stata maltrattata In questo video Assolutamente Possiamo andare Ah Hai le alette Di cosa No Ok ok Perfetto Andiamo allora Tanto è qua vicino Quindi andiamo e torniamo Ah ce le hai prese su tu le alette? Sì 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 Allora Aspetta che mi svuoto un po' l'inventario Sì in effetti Non è una cattiva idea Usciamo a portare più roba Ok Cibo cibo Arco Il carbone Magari No Lo butto qui Un piccone L'arco Le armi Metto qui E il coso per costruire Vabbè La pala Vabbè Tanto abbiamo Gaston Andiamo Andiamo Guarda Guarda Adesso c'è lo squalo che ci No era di lato Però Era di là Sì Poi non so perché il mondo si è rigenerato Quindi Tu che puoi vedere la mappa Sto andando giusto? Capovaro Vada vada Puoi pescare qua con le frecce Non lo so Sì sì puoi pescare Ok Siamo arrivati Basta basta Esci Qua avevo già spolpato E là Anche le Artiglie di grande felino Scusa Gaston Vieni qui che Apri cassa E inizia a caricare dentro Sta roba Ok Ma non si lamenta Il piccone Qua abbiamo dell'oro E del metallo E sto prendendo fuoco Perché qua Fa molto male Fa caro Dovremmo Scavare rapidamente Raccogli il gioco Fuggi 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 Ci ho puzzato Certo Vabbè Gaston Metti via l'oro Che ci serve Va Anche questo Niente Andiamo da questa Allora Non trovo qualcosa da mangiare Sono già debilitato Vabbè Ho recuperato anche la vita Dai Mi sposto di qua Che c'è Delle gemme Anche le gemme Sono importantissime Perché Guardate che arrivo anch'io Ma è già notte È stato più lungo Infatti sono usciti i pipistrelli Dalla caverna Aiuto Il problema è che Qua non abbiamo il letto Quindi se si muore No no Se si muore No Ho già scoperto Che si riparte da qua Dall'isola E si perde tutto però Ok Dovevo scavare questi Magari non con Cioè la missione sarebbe Quella di portare Un po' di Di metallo Da lavorare Di là Tu non hai da mangiare pronto Eh si Mi dai una lettina Un cosciotto Qualcosa Aspetta che adesso Allora Lo do a Gaston Intanto Ok Prendilo da lui Io raccolgo tutto Comodissima La scimmia Che porta Allora L'importante È prendere Metallo Non è che Siamo venuti qua A fare Chissà cosa Di dungeon Il giorno in cui saremo Tutti metallizzati Poi ci facciamo che Ancora Che palle Allora Calcolando che Perché ha mollato la cassa Eh perché forse Si è messa a combattere Ok Allora Gaston dove sei? Ok Ok E comincia a fare Quello che stai facendo Quello faccio anche molto bene Tra l'altro Allora Tieni qui No vabbè Tieni Questo Questo Prendi i sassi I sassi ne abbiamo Anche questo Ok Qua vedo qualcosa Che luccica No Vuoto Ah qua ci sono altri Si dice Hai già Ninja Luther Dell'oro Molto bene Ma non ho scavato Sono un ninja router Cioè sì Sono un ninja router Però Principalmente ho scavato Allora Ok No vabbè Il bottino Non è male Calcolando L'oro Le pietre così Riusciamo a sbloccare Un po' di cose Di crafting Abbiamo già 21 Direi che Io sarei quasi soddisfatto No no Ma sarei quasi soddisfatto Giusto Giusto per sbloccare Un po' di crafting Allora Alette Anche il cibo Lì Non basta Cioè non basta Non ci basterà Un bel po' Vediamo se dentro qui C'è qualcosa di interessante Sì Il tomba Mucchio desolato Ok Sì c'è qua da scavare Cosa c'è Uh si esce proprio al centro Delle Ui Che cattive Sì è uscito Sono uscito No sono uscito Dalla seconda entrata E Però Boh Non è accessibile Ah no Forse è così Eh ma lì c'è No Niente Apparando questa roba Gaston Tieni Ciao Paqui E ciao Niente Mining Di questo Colpo mega galattico Ok 25 Dignitoso Ah di qua si esce Ma si tornerà Sì infatti Ma si può andare su Ah ok Ci torna fuori C'è qualcosa di Ah vicino alla Sì 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 All'ingresso Ok Boh Alla fine Sarebbe Dai Allora che qui c'è una bottiglia Mappa del tesoro Sì No sarebbe ad esplorare Magari un po' lungo la costa Giusto per vedere Che cosa salta fuori Una scimmia O è nostra questa No No Che ne dici di fare affari C'è un totem Vediamo cosa vuole Due martelle di legno Beh ciao Qua senza tavolo Non fai niente Ah no però Però Martelle di legno È quello standard Serve il legno E basta Sì Legno e corda Gaston hai legno e corda Due di legno E corda non ne ha Vuoi farlo Le facciamo con qua Oh che cattivo Allora la corda La si fa con l'erba Quindi Sì Con questi fogli Metterò Ok Ti faccio la corda Una Due corde Ciao Per chi Ok Ok L'hai presa? Ah la faccio io Sì sì Ho fatto la corda Io Adesso Non ho La Laccetta Quindi Devo buttare giù A picconate Un albero Giusto per avere Un po' di visuale Sul totem Già che se qualcuno Visse l'accetta Mannaggia Tu ce l'hai? Eh no L'ho rotta anch'io adesso Ma aspetta Qua c'è un altro totem Sono due totem E non si passa di là però Ok Questo è il primo Il secondo vuole Due martelli Anche questo vuole Due martelli Quindi dobbiamo far Quattro martelli Alla fine Per accontentarli Tutti e due E niente Mi sa che Oddio C'è C'è un albero Di Qualche frutto Strano E in più C'è un Cinghialone Di là Quindi Vabbè Beh intanto Due martelli Uno Due Due li hai fatti? Sì Ma cos'è questo? Quel cosa lì cos'è? Aiuto È un teschio volante Che dà dell'oro E c'è anche lo squalo Arriva Adesso Dai Vai che ti passo Loro Ti passo Vediamo se posso Ti aiuto Cosa c'è? Chi c'è? Ah Qua gli scheletri invece Non i goblin Ah Già finita Vabbè Hai fatto due martelli? No No Perché adesso Potrei farli anch'io Ma chi è che spara? Io allo squalo Ah Ok Perché stavo attaccando Gaston non si tocca insomma Guarda qui Cosa ti dà? Eh È lì Coda C'è Il filetto di pesce La bistecca Ah Ok Avanzi di carne La quantità di carne Martello 1 fatto Martello 2 Mi serve il legname Dai Io ho fatto due martelli adesso Eh Puoi darlo all'altro Due le ho fatti io Mi manca un pezzo di legno Ok Secondo Non l'ha fatto Due martelli Ok Vado a consegnare lì all'altro Ci darà la cassa Dopodiché Potremmo scoprire Il tesoro Allora Vediamo subito Aggiungi Aggiungi Ok Dovrebbe far Far comparire un tesoro Sì Sì L'ha fatto Lo porto qua Ma me la posso anche lasciarla lì Perché Torniamo a casa? Sì Che facciamo Facciamo un po' di crafting Mollo un piccone Che il mio era praticamente morto E anche il mio ma Ah no I soldi Sono Divisi Quindi Non c'è possibilità di rubarli All'altro No 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 Ognuno i suoi Ma mi sa anche gli altri oggetti Eh Troviamo Ma c'è anche tu Il piccone Sì Ma Vabbè Adesso E io Ho fatto Vai Ok Adesso Come ultima cosa In questo video Faremo Un po' di crafting Quindi Andremo a sbloccare Delle altre ricette Che richiedono il metallo E magari scopriamo anche Questa Pentola Che magari Ci sbloccherà Un altro albero Di Ricette Di crafting Ah Abbiamo lasciato due scimmie qua Quindi alla fine Va bene Allora Carbone Il carbone Lo prendo io Ok Allora Andiamo qua E craftiamo Un po' di roba Tipo Due chiodi E due di quelle Ok Quindi Uno Ah scusa Mi serve Dovresti consegnarmi Grazie Questo E Questo E questo Grazie Ok Ok vai Va bene Nessuno ha il martello Non ci lavoro io Ah no Vieni Vieni Eh vabbè Era arrivata Eh sì perché stava facendo Un lavoro per me Adesso qualche aspetta che finiscono Intanto mi incoraggia Mi critica Mi fa un po' di Osservazioni sul lavoro Ma non è modo e maniera E facciamo questi due Che ci vorrà una vita E poi Vediamo che cosa si sblocca Come crafting Adesso ci rivediamo Tra pochissimo Oh deficiente di scimmia Vieni qua Perché non viene a farmi Viene a far questo Oh bravo Magastone Ah no Ok Abbiamo Ottenuto quello che ci serviva Adesso proviamo a fare Il telario di metallo Presumo sia Un Una cosa di Di crafting Per Delle cose più avanzate Mettiamo all'interno C'è già lì La scimmia che aspetta Ok Martella dalla parte opposta Ma va bene Va anche piuttosto veloce Rispetto a noi E poi sale di abilità Quindi Va bene Intanto qua la casa Come procede Tutto a norma Sì 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 Ok Gastone ha detto che tutto Ha firmato Ha detto che tutto a posto Tutto a posto Vediamo cosa sblocchiamo E Va 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 Abbiamo sbloccato Il telaio d'oro Niente pentola Ma non vorrei che la pentola Magari si sblocchi con Il La cucina Magari Tra l'altro qua Il frutto C'era sull'isola Anche il pesce Tu puoi fare il pesce Il pesce C'è qui nella cassa Se vuole Proviamo a farlo Allora il pesce Allora intanto Io metto via questo Prendo il pesce Anche le foglie mi servono Devo mettere un attimo Il telaio lì Che Vediamo Scegli la ricetta Il pesce Scemi a Bravo Non fare assi Viene cucinare il pesce Nella meglio Ok Rimetto via quello che dovevo Tec 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 Prendi questo Vediamo un po' adesso Se c'è Se è sbloccato No Il pesce dolce Va bene Niente con la frutta Va bene Intanto Vediamo se riusciamo a fare altro Vediamo se riusciamo a fare un'altra Di queste pietre qui Perfetto Scusi Ecco Venga qua Proviamo a fare la pietra Quella del labirinto Che magari un domani ci sarà utile Tanto cosa sta facendo Ah no Che sta tenendo la cassa Aveva un po' una posa Un po' così Sembrava in adorazione Del forno Allora Intanto qua non c'è più La trappola Tu sai dirmi Che cosa c'è dopo la trappola Quella per animali Che hai fatto Gli spuntoni forse Sì c'è la trappola Ok Mentre la lancia di metallo O le frecce leggeri di metallo Potrebbero darci Qualcos'altro Sicuramente non ci dà Un pentolone per cucinare Quindi va bene Allora prendo questo Vado qua Prendiamo anche l'altro E andiamo a craftare L'ultima cosa Di quel ramo lì Che sarebbe la pieta Della gemma del laberinto Ok Quindi Beh Ok Adesso No Non sa neanche lei se Ok no Ha deciso finalmente Si ravvede Decide di venire a produrre La gemma del laberinto Si Sta Sta palma Un po' sfracassato Comunque Giusto per Questa qua Si L'accetta La possiamo fare Accetto L'accetta 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 Allora Finito Olè E avremo sbloccato Sicuramente la pietra del potere Vediamo Eh si La gemma del potere Beh non serve neanche tanto Perché servono comunque due gemme Affinate normalissime Facciamo La pietra del potere Per fare poi Di conseguenza Il teletrasportatore Perché il teletrasportatore Si fa nei progetti Due telai d'oro Tre assi E due pietre del potere Quindi direi che È una cosa avanzata Ma io ipotizzo Che sia una sorta di teletrasporto Da un'isola all'altra Per non usare La zattera La zattera ogni volta Quindi niente Per il momento Direi che Può bastare così Intanto qua si continua Con i lavori edilizi Intanto guardate Il Questo è Zofia Che Mentre la chiamo Vedete si gira Smette di lavorare No no va bene va bene Vada vada pure E sta martellando Finendo I lavori Sì infatti Ha costruito la parete Sta andando avanti E finirà tutto Bene ragazzi Allora Da The Survivalists È tutto Per questo secondo video In cooperativa In compagnia di Gabri E direi che può bastare così Ci vediamo Nel prossimo video game play Alla prossima ragazzi E ciao 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 ciao